Hey, ancora qui? Ma perché continui a procrastinare? Non ti sei ancora iscritto al webinar Elefante nella stanza, che si terrà il 21 aprile alle ore 21. Sì, lo so, hai ragione, nella landing page c'è scritto che è un webinar pensato per chi fa affiliate marketing e quindi mi dirai, Roberto ma perché mi devo iscrivere? Te lo spiego subito. Se sei mio studente è altamente probabile che tu faccia business, sia esso online o offline. Ecco, durante il webinar Elefante nella stanza parleremo di quelli che sono i 7 più 1 blocchi inventari che ti impediscono di costruire un business altamente profittevole. E questi blocchi sono gli stessi, indipendentemente dal fatto che tu faccia affiliate marketing o qualunque altra diavoleria online o offline che sia. Sei un mio studente di immagine vincente o addirittura del circo dei vincenti? Fantastico, devi iscriverti lo stesso al webinar del 21. Sai perché? Perché parleremo di una delle domande più diffuse in assoluto che mi viene costantemente fatta ogni singola volta che mi collego al circo dei vincenti. Quindi iscriviti al webinar, è gratis e avrai accesso a delle informazioni pazzesche. www.elefantenellastanza.it ci vediamo il 21 aprile alle ore 21. Mi raccomando! Dai!